Francesca Lunni, dirigente scolastico del Terzo Circolo Didattico, per parlare di tanti appuntamenti che la prossima settimana caratterizzeranno i diversi plessi che fanno parte del circolo con l'Open Day. Che cosa accadrà, di che si tratta? Allora, questo è un periodo molto importante per la scuola. Si avvicina il periodo delle iscrizioni che saranno aperte dal 15 gennaio al 15 febbraio ed è un'occasione per aprirci ai nostri utenti, ai bambini e ai genitori, ai bambini che devono iscriversi, ma anche ai genitori di quelli che già frequentano. Il nostro circolo ha deciso di aprire la scuola sia di mattina che di pomeriggio, in tutti i plessi, in diverse date, per accogliere i genitori e dar loro tutte le informazioni di cui possano aver bisogno, ma anche per permettere loro di vedere come normalmente si lavora a scuola e di partecipare a una giornata di studio con i bambini per poter quindi valutare al meglio le necessità e le offerte di ogni scuola e se rispondano o meno alle esigenze dei propri figli. Quindi aspettiamo i genitori per far loro conoscere la nostra offerta formativa, le attività che normalmente facciamo, le insegnanti che accoglieranno i loro figli o che già ci lavorano e per rispondere a tutte le loro domande, a tutte le loro curiosità e a tutte le loro, speriamo, necessità.